finito? si è finito? si è finito? eh? com'è andata? a me male, guarda, su dicio, anche stasera non se ne può più e mi tocca, no non vedi che stasera tu sei rimasto con noi il piano di figlie? stasera scendo, guarda, guarda come mi guarda, guarda come mi guarda queste figlie, queste figlie si guardano i video, si, aspettavano voi guarda che fotografa, alla, vai, mandala su Vogue, aspettavano lei? a chi? aspettavano lei? a me? o a lei? eh, mi butta giù la poesia, cosa cerca lei? lei sta cercando, cosa cerca lei? il dancing, non c'è aperto ora, tu aspetta anche te questo è il dancing? eh, è pieno di flore, guarda il fotografo, tu sei un uomo, non ti innamorare, lascia stare, lasci stare il fotografo non si sta mai, lasci stare, ha capito, queste donne? come va, come va, come va, va bene? chi? io? 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 lei mi lascia, parto con lo sprint e lei mi ferma lei? come sta lei? ora venino, però se non la smetto di bere è un casino, perché anche ieri sera ci ha dato, 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 chi? io? hai che? ci ha dato, ci ha dato, ci ha ah, ho bevuto, cosa ha bevuto? ho bevuto, indovini? cinque? ho bevuto tre sambucchini, tre sambucchini ho bevuto sono cinque quelli? chi? ah, davvero? mi sono sbagliato sambucchini con la mosca? con la mosca? con la mosca, è un'istata ferma, mi gialla la mosca non la bevevo, comunque sono... ha bevuto i sambucchini? sì, perché se io, per modo di dire, bevo le fiche sentono il profumo e vengono da me, io mi allontano e loro... abbi pazienza perché parlo troppo veloce ma io la capisco, guardi, io mi adeguo... io sto per dire, sto fermo qui, arriva tre fiche e vengono da me ma i che vogliono da me? sarà la sambuca come dice? altezza, mezza bellezza, mezza altezza, bellezza intera lei veramente le prende chiappa così? chi? io? lei le prende così? ce l'ha così lei? ce l'ho così ma le piglio in un altro modo e va bene! vuoi vedere come le piglio? è venuto un motorino? non me lo faccia vedere e sono venuto un motorino con quello di... quella figa che mi aveva dato quella ragazza dell'altra volta... quella ragazza figa... mi ha dato il... mi ha dato il... il cosco, il motorino... c'è sempre quello? sì... il ciao... ciao, va via, ci si vende... dove va? no! gli ha dato il ciao? però con il ciao ragazzi andate piano, mi rivolgo a Giomani, piano con il motorino... il ciao va pianino via... il ciao fa 70... come 70? pianino... è truccato... è truccato? io? oh, sono mia... aspetti, ho da girare la testa... sono mia... ma non è... allora chi? truccato... il ciao è truccato... no, il ciao è truccato fa 70... orca miseria... senza parapresa... senza parapresa... perché col parapresa fa un po' meno... chi? io? il ciao... ma col parapresa fa un po' meno... allora viaggia forte... e io col... ho da gas e sto prendendo una scarpata... chi? lei? chi? a che mi fai... ma che siamo... allora che... chi c'è andato la scarpata? io stavo prendendo di sotto con la scarpata o con il motorino... ma non c'è andato? non ci sono andato però mi son fatto male... oi... oi... e lì col motore quando va forte bisogna mettersi un giubbotto di pelle... il giubbotto è certo... va bene... si prende vento... si prende vento... allora... ma se l'era messo lei il giubbotto? mi son messo il giubbotto di pelle... ma siccome entra l'aria da buchi... ah... da bottoni... io l'ho messa alla rovescio... si faceva così... vero moto eh? si fa ancora... si fa ancora... negli anni 70 si fa... ha ragione... l'aria... e ora lei si è messo il giubbotto all'incontrare... ha ricon... ti arriva l'aria qui... ma io son cascato... sono andato in terra... e allora si è fatto male? gli era pieno di figlie così... una l'ha chiamata io... l'ambulanza... ha chiamato l'ambulanza... e è arrivata l'ambulanza... ha sbagliato a fare il numero che sta figlia... ha fatto il numero all'incontrario... e allora? è arrivata l'ambulanza a marciandietra... ci ha messo mezz'ora in più... allora appena è arrivata l'ambulanza... appena è arrivata l'ambulanza... lei che ha fatto? lei... io ero sdraiato in terra così... no... con il giubbotto all'arrovescio... la testa in avanti... ma c'è il dottore... è arrivato il dottore e l'ha detto... porca miseria... io lo guardavo... porca miseria... l'ha detto il dottore... non te... grudo... il dottore gli ha detto... porca miseria... allora... ma per sapere il collo... ma per piacere... ma non ci credo... ma cosa mi racconta? e a quel punto lì lo sforzo... ho fatto un cureggio... dai per favore... se mi sono accorto... che pesano... ma che pesano... che dormo alle figlie io... ma chiudiamo questo locale... chiudiamolo basta... chiudiamolo...